ciao fermate ovviamente fratello fermate subito immediatamente 加une da una coltellata fermati qui fermati qua dammi i sorti a posto che come کہo a posto a posto no no mi devi far vedere i soldi a posto chi quanti soldi c'ho fratello a posto chied副 No, non c'è altro. No, no, no. No, 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 no! No, 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 no! Ma chi? No! Facci tua pezzo del merda!